E' polemica dopo l'annuncio del protocollo d'intesa firmato da Consorzio Asi e Provincia di Salerno sull'area interportuale di Battipaglia, che nelle intenzioni dei firmatari dovrebbe diventare un hub agroalimentare. La decisione ha scatenato le critiche del mondo politico battipagliese, a cominciare dalla sindaca Cecilia Francese, che ha parlato di scostumatezza istituzionale. Si è chiaro, ha aggiunto, che chiunque voglia intervenire sul territorio di Battipaglia deve tenere presente che il presupposto della collaborazione istituzionale è la condivisione delle scelte. A fargli eco il consigliere Angelo Cappelli, che ha parlato di atteggiamento superficiale e poco rispettoso. La variante in questione, ha affermato, deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Critico anche il consigliere Valerio Longo, che ha definito una presa per i fondelli l'annuncio del protocollo.